Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo della taleazione di questa pocillopora. L'ho denominato video extra perché non parla proprio dell'acquario in sé, però parliamo di questo corallo. È diventato abbastanza grande, ho visto che anche un punto è diventato l'asso, nel senso che si sta staccando già per i fatti suoi, quindi direi che è giunto il momento di talearla, anche perché nei rami interni non arriva abbastanza nutrimento e luce, quindi il tessuto è diventato bianco. Non è morto, è recuperabile tranquillamente, però va taleata. Ecco, siamo arrivati a quel punto in cui è necessario. Tirato fuori dalla vasca, in una vaschetta di plastica, possiamo notare che non resta immerso e questo punto è già l'asso, quindi lo mettiamo da parte. Spezzettiamo con le mani proprio così grossolanamente i punti più fragili, stando attenti ovviamente a non tagliarci, si può fare anche con una cesoia ma è venuto bene lo stesso, e immergiamo proprio totalmente il nostro corallo. Prendiamo delle basette, basette che ho fatto maturare in vasca per un mesetto, tranquillamente proprio le ho messe dentro la vasca in samp e sono maturate, e cerchiamo di scegliere i branches, cioè i rami migliori e con la forma diciamo migliore. Ad esempio qui andava tagliata a metà, l'ho tagliata a metà, divido i due rami e li rimetto ognuno dentro alla vaschetta di nuovo lì, in attesa di essere incollati. Per effettuare l'incollaggio consiglio una colla a base di ciano acrilato. Le colle sul commercio, che non siano bicomponenti, funzionano benissimo a questo scopo perché creano un'impalcatura su cui il corallo rimane fermo. Anche in questo caso leviamo la parte terminale, quella più brutta, e procediamo all'incollaggio, che diciamo avviene in pochissimo tempo, soprattutto se rimettete la basetta a contatto con l'acqua. A contatto con l'acqua si inizia a solidificare proprio in fretta, quindi rimettiamo una volta presa la nostra posizione in cui sentiamo che c'è contatto tra la base, la colla e il corallo stesso, la rimettiamo dentro al contenitore. Selezioniamo un'altra basetta e procediamo con l'incollaggio di un altro branches scelto tra quelli che avevamo selezionato prima, in questo caso è abbastanza grande. Tra l'altro mi piaceva la forma, quindi ho detto lo mantengo di questa dimensione e forma, anche perché se rispettiamo le dimensioni e la forma ributtano più in fretta. Sempre leviamo la parte terminale, quella più brutta, e procediamo all'incollaggio. La parte terminale sarà una parte morta, lo vedete perché ha un aspetto più scuro. Levare quella parte più scura di scheletro si sgretola in sabbia, quindi rischierete di trovarvi il corallo diviso dalla basetta dopo poco tempo. Ecco giunto il momento di rimetterla in masca. Dopo 5 minuti la colla sarà asciutta e noi potremo tranquillamente spostarle nel nostro acquario. I punti dove rimettere le nostre talee sono dove era presente la colonia madre in precedenza, per le talee più grandi, mentre per le talee più piccole io preferisco sempre metterle nel letto di sabbia per evitare che entrino in stress dovuto alla taleazione, anche se in realtà se abbiamo fatto le cose per bene, quindi abbiamo sempre cercato di tenere il più possibile immerse i nostri rami, questa cosa non accade di solito, quindi dopo un poco si riprendono tranquillamente. Ed ecco qui le nostre talee ben sistemate sul letto di sabbia, quelle più piccoline, e adesso vi ho messo una ripresa con la lente arancio per farvi vedere bene i dettagli e il fatto che comunque già stanno spolipando tranquillamente. La parte vedete più interna era bianca, col tempo si ripopolerà di zox antelle e quindi tornerà colorata. Questa talee è molto colorata già all'inizio e qui ho delle talee che avevo fatto in precedenza che stanno benissimo. Vi lascio con questa lumaca che fa segnali di fumo, fatemi sapere secondo voi che cosa sono questi segnali di fumo. Ci vediamo alla prossima!